Il cemento Portland è un materiale industriale più utilizzato dall'uomo sulla terra. Si stima che nel 2015 siano stati prodotti circa 4,6 miliardi di tonnellate di cemento. Noi utilizziamo il cemento per realizzare le nostre infrastrutture civili e anche le nostre abitazioni private. Ma sebbene ognuno di noi abiti in una casa in cui il cemento è una componente fondamentale, non tutti sono consapevoli del processo di produzione del cemento Portland. Infatti produrre il cemento Portland comporta il rilascio nell'atmosfera di notevoli quantità di CO2. Si stima sempre che la produzione di cemento sia responsabile per circa l'8% della CO2 antropogenica rilasciata nell'atmosfera. Perché produrre cemento Portland ha questo impatto sull'ambiente? Dipende dal processo di produzione. Infatti per produrre il cemento noi utilizziamo materie prime naturali, rocce, quali i calcari e le argille. Queste materie prime vengono macinate e trattate termicamente a temperature elevate, superiori ai 1400 gradi. Questo processo di produzione a temperature elevate innesca la clinkerizzazione e si produce così il clinker. Il clinker è il costituente principale del nostro cemento Portland ed è proprio la produzione del clinker che è così impattante in termini di rilascio di CO2. Questo perché? Perché la materia prima utilizzata, il calcare, quando è trattato termicamente, decompone e rilascia nell'atmosfera CO2. Si stima che produrre una tonnellata di clinker, determini il rilascio nell'atmosfera di circa 0,9 tonnellate di CO2. La produzione di cemento non è, per i grossi quantitativi coinvolti, rappresenta quindi un problema per i gas serra nell'atmosfera. Dobbiamo quindi cercare delle alternative al cemento e la via più immediata per cercare di ridurre la CO2 è quella di sostituire il clinker, che è la componente più invasiva. Riteniamo che l'esigenza di abbattere drasticamente l'emissione di CO2 associata all'industria del cemento e del calcestruzzo non debba rallentare lo sviluppo economico ed infrastrutturale delle economie emergenti, in particolare nel continente africano sul quale stiamo cercando di focalizzarci, in uno scenario di veloce urbanizzazione di questo continente, continente in cui esiste ancora una forte carenza abitativa ed infrastrutturale. Stiamo quindi cercando di operare avvalendoci di materie prime molto diffuse in questo continente come terreni argillosi di questo tipo, sono delle tipiche terre rosse e il vantaggio di usare argilla in luogo del calcare è che il trattamento termico dell'argilla che serve a rendere attivo questo materiale avviene innanzitutto ad una temperatura decisamente più bassa rispetto al carbonato di calcio all'incirca 700-800 gradi e a differenza del carbonato di calcio rilascia in atmosfera unicamente vapore acqueo. Le nostre sperimentazioni hanno mostrato che leganti alternativi a base di argilla calcinata possono fornire delle prestazioni meccaniche paragonabili a quelle del cemento Portland e in questo momento stiamo studiando anche la lavorabilità e la durabilità di questi materiali avvalendoci anche della collaborazione di alcuni ricercatori provenienti da diversi stati dell'Africa ad esempio abbiamo di recente assunto il dottor Hassan Ezaki proveniente dall'università di Rabat che sta attualmente lavorando ad alcune misure di reologia atte a verificare la lavorabilità di questi materiali. Grazie! 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 Grazie!